Si è completato il settimo turno di ritorno del campionato di Serie A con il posticipo del Franchi tra Fiorentina e Torino. Partita ricca, vibrante di emozioni. I viola si portano in vantaggio nel primo tempo all'ottavo con Savonara e poi il raddoppio con Kalinic al trentottesimo. Nella ripresa c'è la riscorsa Granata. Prima l'accorciamento delle distanze da parte con Belotti in intorno al quindicesimo minuto e poi a dieci minuti dalla fine ancora con il giocatore Granata per il definitivo pari. Un'occasione spiegata per i viola. La classifica dunque recita Fiorentina e ora due punti Torino a quota trentasei. Per tempo per riposare, poiché martedì è in programma la gara di andata delle semifinali della Coppa Italia in cui i protagonisti allo stadio di Torino sarà la capolista del campionato la Juventus e la terza in classifica il Napoli. Mimmo Siena, Speciale News.